Ciao a tutti, oggi vi presento un veicolo commerciale di grande successo, Peugeot Partner. Qui lo troviamo nella versione standard, allestimento premium, motore, 1500 cavalli diesel. Lungo 4,40 metri, vanta un volume di carico molto capiente da 3,8 metri cubi e una capacità di 600 kg. Duo da 16.500 euro, attenzione, solo qui da Jekal. Ti ricordo che è concessionario ufficiale per veicoli privati e veicoli commerciali. Ti aspetto, ciao!